si partiti rifiuta la partenza a Catros e in vantaggio Gran Bounty davanti a mister Arden Bridge Artemide Devastating Fisica Nucleare Gius Gius all'inizio della curva conduce Gran Bounty davanti a mister Arden Bridge Artemide Fisica Nucleare Devastating Gius Gius poco prima dell'ingresso di Tura in vantaggio Gran Bounty davanti a mister Arden Bridge Artemide e Fisica Nucleare i cavalli entrano in dirittura con Gran Bounty in vantaggio attaccato all'esterno da mister Arden e in leggero vantaggio mister Arden davanti a Gran Bounty Fisica Nucleare Sir Calla lo steccato opposto torna in vantaggio Gran Bounty davanti a mister Arden che ti dà mi è facile Gran Bounty davanti a mister Arden e che ti dà mi e che ti dà mi che ti dà mi in Vantaggio e che ti dà mi Grazie a tutti.